www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale 58 per tablet smartphone iphone buonasera consueto appuntamento con la trasmissione politica e nel sviluppo negli studi di canale 58 c'è alessandro ciasullo candidato sindaco per i popolari nel 2014 buonasera a lei buonasera senta dovere ovviamente invitarla alla trasmissione politica e sviluppo lei ovviamente è stato candidato a sindaco dicevo prima nella presentazione ora nelle file dell'opposizione al consiglio comunale con il partito democratico partito movimentato alle prese con il congresso locale ma come si trova in questo gruppo devo essere sincero è un gruppo molto articolato che naturalmente esprime una sua componente all'interno del consiglio comunale di eriano nella sua totalità diciamo la verità tutti quanti i componenti del pd sono tutti uomini della seconda ora nel senso che hanno aderito successivamente diciamo la loro elezione all'interno del gruppo consigliario del pd è una compagine che come sul dato nazionale esprime una sua dimensione di diversità ed è giusto anche che esprima delle posizioni che talvolta sono dialoganti diciamo in qualche modo però posso dire che per la prima volta si inizia ad avere una squadra che sui vari temi è presente che esprime delle singolarità che vogliono interessarsi diciamo per sensibilità per vocazione e anche per ambiti diciamo professionali ad alcuni temi che riguardano l'amministrazione locale e credo che si stia procedendo verso diciamo una composizione articolata del partito ma che vede tutti quanti rispetto alle proprie singolarità in qualche modo riconosciuti in un ruolo che possa rappresentare qui ad Ariano credo il partito allo stato attuale che sulla composizione mi sembra più visibile è d'obbligo parlare di partito democratico ovviamente di sviluppo visto che un tema della trasmissione ma è anche d'obbligo parlare del recente passato politico a distanza di poco più di un anno che ha lasciato zecchino quali rapporti ha con loro ma io penso che siano rapporti di cordiale distanza diciamo di cordiale distanza perché il passato non si rinnega mai è stata un'esperienza formativa sotto il profilo politico certamente è stato un gruppo che mi ha dato molto e a cui ho dato molto si creano ad un certo punto della storia di ognuno dei passi che sanciscono diciamo una dimensione di di maturità un passaggio di maturità che è scatenato da eventi incalcolabili che in politica purtroppo accadono e allora questa maturità si sancisce con una scelta una scelta che non poteva più far finta di non vedere alcune alcuni tentenamenti alcune dimensioni doppie ma come le ho detto io credo che la politica debba guardare avanti senza rinnegare il passato tuttavia rivendicando una nuova funzione guida in un quadro molto più chiaro avevamo necessità di un partito senta lei ha fatto ovviamente un percorso poi una scelta coraggiosa perché in quella compagine a mio avviso sarebbe stato nuovamente il candidato sindaco perché sarebbe stato naturale visto l'affermazione a buona affermazione che ha avuto nel 2014 ma alla luce di quel bel risultato rifarebbe questa scelta appunto di questo divorzio con zecchino io credo che le scelte siano sempre proiettate in avanti di conseguenza ragionare sul passato diventa sempre qualcosa di molto complicato la storia recente rispetto alle amministrative 2014 ci hanno consegnato una verità una verità che l'elettorato conosce e che ha percepito credo nella sua interezza in quella funzione io avrei potuto continuare semmai ottimizzando delle cose non perdendo ma ottimizzando anche in seno alla nuova amministrazione ho preferito fare una scelta chiara che probabilmente mi ha penalizzato rispetto agli occhi diciamo una compagine allargata ma che sicuramente risponde all'esigenza di chiarire di chiarire a me stesso diciamo la cittadinanza che la politica deve essere fatta di specchi puliti senza tentennamenti senta perché proprio il partito democratico l'ha scelto perché partito di governo va gonfie vele almeno in questo periodo oppure ne condivide la programmazione nazionale diciamo che io per vocazione ho sempre avuto una tendenza cattolica naturalmente sono cresciuto nel nell'associazionismo cattolico la verità è che oggi come oggi la dottrina sociale della chiesa e quindi tutti quelli che vogliono in qualche modo interessarsi di politica lo possono fare scegliendo una posizione di campo la posizione di campo che mi sembrava esprimere nel miglior modo possibile diciamo questa dimensione di un progressismo che guardava anche agli ultimi guardava alle funzioni sociali della politica si esprimesse attraverso matteo renzi innanzitutto dopodiché l'alveo naturale di questa scelta non poteva che essere all'interno una compagine articolata disomogenea con delle posizioni anche in il contrasto tra loro non dimentichiamoci che c'è un'anima che viene dal partito comunista un'anima che viene dalla dc io rivendicando la mia posizione rispetto a un passato diciamo di moderato cattolico credo che quella fosse e che l'approdo naturale per chi intende fare la politica in un certo modo sente d'obbligo parlare come dicevo prima di amministrazione comunale ovviamente targata gamba curta vorrei un successo e un insuccesso guardi un obiettivo raggiunto e uno non raggiunto io credo che l'obiettivo raggiunto pienamente da questa amministrazione e la capacità diciamo di rendere pubblico tutto ciò che non si fa cioè nel senso che c'è una capacità da parte di questa amministrazione di fare trionfalismi anche rispetto a ciò che non si compie faccio l'esempio del campo cannelle dello stadio cannelle è stato un successo una manifestazione con squilli di tromba ma che sancisce dal primo ottobre diciamo una impossibilità di utilizzare alcune strutture quindi se dovessi dire qual è il successo principale di questa amministrazione è un'ottima comunicazione una straordinaria capacità di arrivare a dire cose che poi di fatto non esistono se dovessi invece dire le cose che non vanno io direi facciamo un giro in ariano rendiamoci conto di quello che la comunità vive quotidianamente facciamo un giro al centro se riusciamo a far riferimento io faccio riferimento al fatto che il centro storico non ha più negozi e quelli che sono rimasti sono delle strutture che in qualche modo sfidano quotidianamente eroicamente una situazione che non li mette in nessuna condizione diciamo di competere è una situazione che vivo io da cittadino arianese ma che vivono tutti quanti quelli che al centro diciamo hanno un'attività commerciale o ci vivano c'è un voto assoluto c'è una programmazione sulle periferie che paga lo scotto diciamo il vantaggio di aver vissuto diciamo di finanziamenti del passato ma paga lo scotto di una programmazione a lungo termine che non c'è di conseguenza è un'amministrazione che naviga a vista quando naviga a vista sui problemi che riguardano la collettività diciamo stenta a risolvere lì di conseguenza è un'amministrazione che allo stato dei fatti dal 2014 al 2017 ancora non ha dimostrato di avere chiaro quale debba essere il futuro o la prospettiva del presente di questa città se da questione cimitero ovviamente è un argomento che tiene molti col fiato sospeso l'ultima emergenza che ho registrato di pochi giorni fa ritiene che questo accordo raggiunto con la ditta sia necessario per mettere in modo il meccanismo e sia sufficiente per garantire ovviamente un servizio ai cittadini che quello del cimitero beh allora io voglio ricordare per dover di cronaca che la vicenda parte con la delibera 20 del 30 maggio 2008 amministrazione gamba corta amministrazione gamba corta che in quel frangente si rende conto che in una programmazione futura c'è la necessità di garantire per almeno dieci anni da allora dal 2008 quindi per dieci anni la scadenza sarebbe l'anno prossimo per intenderci la possibilità che i nostri cari in qualche modo abbiano o avessero al tempo diciamo una collocazione dignitosa questa questione ad un certo punto subisce uno stop straordinario uno stop straordinario dovuto ad alcune questioni non ancora pienamente chiare in questa in queste varie questioni è coinvolta un'azienda che è quella spinosa l'azienda spinosa è un'azienda che ha grossissime capacità di garantire per diciamo per competenze personali e per competenze che attengono al capitale la capacità di garantire la progettazione e l'esecuzione di alcune opere per spiegarci meglio l'azienda spinosa è la stessa coinvolta all'interno della dello scandalo dei finanziamenti alla damanira dell'anas insomma noi vogliamo vederci chiaro l'autorità anticorruzione anche su questo ha acceso i riflettori non vorremmo arrivare ad una contrattazione rispetto alla realizzazione delle opere che erano state immaginate nella delibera 20 tuttavia in un regime di scarsa e di scarsissima chiarezza quindi se è necessario io dico a questa amministrazione che forse è addirittura il caso di revocare l'appalto a spinosa costruzione ma quanto pare la strada invece quella opposta quella di andare avanti trovare l'accordo se mi pare che già c'è l'accordo l'accordo che già c'è ci dovranno garantire se questo accordo può essere rispettato da questa impresa che lo ripeto è un'impresa che ha problemi gravissimi di giustizia interna e anche di conto capitale se questo lo riescono a fare mi sembra che il vice sindaco nella seduta del 13 scorso 13 gennaio scorso ha detto noi in circa sei mesi riusciremo a fare tutto ciò che non siamo riusciti a fare in 11 anni in 10 anni beh se loro ci riescono noi siamo qui però non vorremmo trovarci come è accaduto per altri casi vedi la questione blundo che ad un certo punto si interrompe per qualche altro intervento dell'anac che potrebbe dire che forse le gare così espletate non rientrano all'interno di nessuna regolarità senta lei vice presidente della commissione affari sociali cosa bolla in pentola la commissione affari sociali una commissione che è percepita diciamo nella sua dimensione operativa come una commissione diciamo che in qualche modo deve guardare alla complessità delle situazioni sociali del della città per la verità è una commissione che per vari ragioni giuste o sbagliate che siano a qualche tratto di incomprensione in quanto non si riunisce di frequente delibera e cerca di portare avanti dei temi diciamo sempre in maniera abbastanza lenta ma allo stato attuale noi stavamo riflettendo e dando il nostro contributo sul mercato settimanale sullo spostamento diciamo di alcuni stalli nel mercato settimanale in aree che non andassero ad inficiare gli spazi di piazza mazzini che sono destinati diciamo al luogo raccolto in caso di emergenze e che in qualche modo potrebbero creare dei problemi qualora succedesse essendo il nostro un territorio fortemente a rischio terremoti e altre cose insomma stiamo facendo abbastanza ma dovremmo fare molto di più io credo che dovremmo dare delle risposte alle persone che sono in difficoltà economica a fine mese dovremmo dare degli indirizzi rispetto ai voucher sociali dovremmo destinare diciamo una nostra attività di programmazione rispetto alle questioni che attengono alle esigenze delle persone questioni di questi giorni ci sono mamme che hanno difficoltà ad avere un'abitazione dignitosa che le consente diciamo con la propria famiglia con la propria figlia di vivere adeguatamente non possiamo rispondere singolarmente ma dobbiamo dare degli indirizzi forti anche all'antenna sociale di cui noi facciamo parte come componente prioritaria diciamo comune di aria senta rottamazione delle cartelle esattoriali un argomento che il pd sta caldeggiando da un po di tempo ne avete fatto oggetto anche di riunioni interne di che cosa si tratta beh la verità va dato merito all'avvocato la vita il consigliere la vita di aver in qualche modo preso al balzo un'idea portata avanti dal governo renzi stiamo parlando di un decreto legge poi convertito in legge la legge 225 che prevede in qualche modo la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali rispetto agli oneri di urbanizzazione i costi di costruzione i tributi locali la verità cosa è successo che questa cosa approvata il primo dicembre in qualche modo metteva il comune di ariano anzi lo obbligava a far sì che tutti coloro che in qualche modo dovessero qualcosa al comune e altri enti diciamo di riscossione tributi fossero in grado di dilazionare questo pagamento pagamenti che erano quelli dal primo gennaio 2000 al 31 12 2016 in modo tale privi per esempio di tutte le more privi di tutte le multe quindi in qualche modo si veniva incontro attraverso questa legge alle esigenze del cittadino che per qualche ragione non aveva pagato diciamo i tributi che dovevano essere pagati il comune di ariano che cosa ha fatto ha fatto in modo che questa legge non venisse recepita immediatamente ha fatto sì che si approvasse una variazione di bilancio particolare quella del 28 12 2016 con 130 mila euro desunti da quei tributi da quelle multe da quelle more che non dovevano essere più corrisposte da parte dei cittadini arianesi quei 130 mila euro sono serviti per fare una variazione che servisse ad organizzare il natale arianese per intenderci quindi questa è una mancanza di chiarezza nei confronti dell'elettorato e dei cittadini che ingiustamente hanno pagato e che voglio far presente non potranno avere indietro i soldi quello che abbiamo fatto è evidenziare un paradosso evidenziare una cattiva chiarezza da parte di questa amministrazione che ha leso sicuramente gli interessi di qualcuno senta prima di parlare di questioni che attengono sempre al territorio io nel suo tono di colloquio con me noto che c'è veramente un tono da opposizione ma fa opposizione opposizione oppure quell'opposizione costruttiva cioè la vita abbastanza agguerrito anche se non siamo in consiglio comunale la verità è che io intendo la politica come un luogo di dialogo certamente la politica non può essere sempre fatta come fa il movimento 5 stelle per intenderci a cui rivendico forse il ruolo di aver smascherato alcune nefandezze della politica italiana però diciamo non condivido l'attacco personale non condivido quello ostentare onestà 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 che poi rivela in realtà diciamo dei magheggiamenti quantomeno una chiarezza che di fatto nei fatti laddove si amministra non non si mantiene però credo di convesso che ci sia la necessità che la politica abbia degli spazi di pesi e contrapesi condivido che la opposizione debba avere una funzione anche di orientamento e di equilibrio rispetto alla maggioranza ma l'opposizione deve essere innanzitutto controllo l'opposizione non può far finta che non esistano delle magagne e sottacere a queste magagne perché il ruolo che spetta l'opposizione è quello di evidenziare ciò che non va diversamente diversamente diciamo anche la popolazione non percepirebbe qual è la differenza tra maggioranza e opposizione per la verità per molto tempo per molto tempo devo essere onesto per tante ragioni non per tutti si è respirato una mancanza di chiarezza che allo stato attuale mi sembra essere fatta diciamo ora è fatto ma fa riferimento a santo soso ma non c'è nulla di personale io credo che santo soso coerentemente essendo in una posizione di diciamo ondivaga in cui era seduto tra i banchi dell'opposizione ma tutto sommato era di supporto diretto diciamo alla maggioranza ha fatto chiarezza spostandosi dall'altra parte ma nelle ragioni della democrazia che ci deve essere questa chiarezza io dall'opposizione faccio l'opposizione se poi mi chiede se in qualche modo sia contrapposto personalmente agli amministratori io le posso dire che molti di loro sono degli amici ma la funzione politica è altro la funzione politica deve avere la barra dritta e dire le cose che non vanno altrimenti non c'è differenza tra noi e loro se fosse rimasto nel gruppo di zecchino avrebbe potuto fare questo tipo di opposizione se fossi rimasto nel gruppo di zecchino probabilmente a questo punto avrei dovuto in qualche modo incarnare il ruolo di chi o fa un opposizione allineata diciamo a questa maggioranza oppure in qualche modo qualcuno che fa parte dell'attuale maggioranza diciamo un ulteriore elemento della maggioranza è stata questa forse una delle ragioni principali per cui ho deciso di rimanere nel luogo a cui la collettività arianese mi aveva consegnato non ci dimentichiamo risposto alla fine dell'intervista quasi alla prima domanda esattamente io sono rimasto esattamente all'opposizione il transito verso il pd era semplicemente ritenere la componente legata all'onorevole famiglietti e alla componente renziana ma in generale al pd ritenerlo interlocutore rispetto ad un ruolo che io già esercitavo all'interno dell'opposizione senti tornato di nuovo il traffico accardito ma la manna camporeale che fine ha fatto cioè non decolla qual è la situazione del pd locale mi pare che vuole informare anche cantone io credo che a questo proposito il nostro capogruppo michele caso in consiglio abbia detto delle cose molto molto chiare innanzitutto dobbiamo dire una cosa questa vicenda una vicenda che si diciamo ci tiriamo dietro da un sacco di anni è una vicenda che il 26 gennaio 2012 chiedeva e dava la firma del contratto alla breve costruzione dopo una serie di ragioni non ragioni di chiarezze non chiarezze una serie di evidenze non evidenti diciamo questo appalto per varie ragioni è stato in qualche modo tolto a breve costruzione che ha fatto ricorso al tar e l'ha vinto ora questi circa 35 milioni destinati a questa opera straordinaria e strategica parzialmente per risolvere il traffico accardito diciamo bagheggia e veleggia all'interno di un terreno indifferenziato in cui non si sa quali siano le ragioni per cui c'è un'interruzione per questo noi abbiamo intenzione di anche in questo caso forse di interessare l'autorità anticorruzione perché secondo noi ci sono delle ragioni poco chiare che forse l'autorità anticorruzione potrà chiarire nei termini giuridici sento si sta riprendendo il partito democratico dopo la sconfitta del referendum costituzionale il partito democratico naturalmente un partito aperto un partito che ha una vocazione maggioritaria un partito che ha diverse anime un partito che ha nella sua componente principale che è l'area renziani diciamo una forza strategica forte non dimentichiamoci che perdiamo ma perdiamo diciamo con un volume di voti in qualche modo intestabili a questa corrente abbastanza anche ad ariano abbiamo avuto una discreta affermazione ma far diventare questo un successo diciamo io non me la sento credo però che questo vizio diciamo di fondo rispetto al referendum costituzionale possa essere come dire quel segnale che ci induce a riprendere il contatto con il territorio a riammagliare le ragioni che in qualche modo sembravano di staccarci dall'esigenza delle persone in qualche modo come dire un piccolo scapellotto da parte della collettività italiana che ci induce ad una riflessione più profonda ma che non può essere non altra che quella che guida diciamo a una visione autenticamente renziana non ci dimentichiamo che allo stato attuale l'unico leader riconosciuto mi pare possa dirsi senza ragione di dubbio ancora Matteo Renzi. Senta come mai non c'è nei congressi provinciali non la vedo di frequente oppure nelle iniziative che sono al di fuori di ariano cioè non sembra che la sua politica sia ariano centrica. Lei sta dicendo un'altra verità diciamo che il partito il PD ad ariano ha sempre avuto diciamo una vocazione ad isolarsi ad arroccarsi nella cosiddetta repubblica di ariano. No per la verità invece io intanto faccio parte di un gruppo allargato che è Big Bang Irpinia con cui ci riuniamo di frequente discutiamo di temi che attengono alla programmazione territoriale. Si è discusso per esempio di diversi temi che forse affronteremo in questa intervista come diciamo i finanziamenti per la stazione Irpinia. Voglio dare una notizia mi dispiace forse se anticipo questa cosa le voglio dare una notizia a marzo a marzo il ministro del Rio verrà qui in Valle Ufita a riprendere l'impegno a sancire l'apertura dei cantieri diciamo per la stazione Irpinia. Quindi in qualche modo la nostra presenza la facciamo sentire anche ripeto attraverso l'onorevole famiglietti che è stato molto presente per tante questioni anche in Valle Ufita avremo il ministro del Rio che ci dirà per l'ennesima volta riconfermerà che il decreto mille proroghe del 2017 che ha visto D'Ambrosio l'ingegnere D'Ambrosio riconfermato rispetto al suo commissariato in qualche modo ci darà il là il là definitivo all'apertura dei cantieri diciamo di questa di questo grande opera strategica per la nostra realtà. Non vengo meno però la sua domanda precedente. Intanto le dico che nelle prossime settimane da qui alla fine di febbraio si aprirà il tesseramento. Il tesseramento che porterà poi al congresso provinciale. Il congresso provinciale diciamo che si farà. Si farà possiamo dire con certezza che si celebrerà probabilmente in marzo. Il probabilmente è connesso diciamo a ragioni più di tempo stabilire qual è la data specifica ma si farà in marzo allo scadere diciamo di questa di questo tesseramento che durerà nei prossimi tre fine settimane di febbraio. Dopo di questo ci sarà quelli che sono i circoli cittadini. Si farà una fase in cui si ristabiliranno diciamo gli organigramma all'interno della realtà cittadina. Ma noi vogliamo essere presenti anche all'interno del territorio provinciale. Ci siamo assunti degli impegni anche all'interno del PD, degli impegni di responsabilità portati avanti con un'opera strategica con i diversi sindaci dell'area che afferiscono al PD diciamo dell'arianese potremmo dire che secondo me porterà diciamo il PD arianese ad avere qualche voce in più anche in assise provinciale. Senta mi riferiscono che su un paio di domande così arriviamo alla conclusione su facebook lei pubblica molte volte dei post sempre polemici sulla comunicazione scelte organizzative di scuole. Leggevo un post dove diceva che le scuole dipendono da gamba corta. Gamba corta il presidente ovviamente condiziona anche le scelte organizzative di alcune scuole. Ma ce l'ha con tutti? No 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 io ribadisco io non ce l'ho con tutti. Io rispetto al post di cui a cui lei fa riferimento voglio spiegare benissimo a che cosa ci riferiamo. È un post relativo ad una richiesta che io ho fatto in data 9 settembre sia alla provincia sia al comune di Ariano che riguarda una questione specifica che è il collaudo statico sismico delle strutture scolastiche. Ora per chi si interessa di scuola come lei professore sa benissimo che la competenza sulle scuole secondarie è della provincia. La risposta che mi è stata data a distanza di tempo io ho fatto una PEC datata 9 settembre quindi prima dell'apertura delle scuole non c'è nulla di strumentale nella mia richiesta c'è soltanto la necessità di dare delle garanzie a chi porta i propri figli e li manda all'interno di quelle strutture in un'area fortemente sismica. 9 settembre alla seconda richiesta non mi viene data risposta mi viene fatta una risposta in data 29 12 in cui si dice se lei vuole avere questi documenti lei deve venire qui nei giorni prestabiliti e pagare le imposte di bollo e pagare tutti diciamo tutte le fotocopie che attengono alla riproduzione di questa documentazione. Per chi si occupa politica sa benissimo che chi occupa un ruolo pubblico quale un consigliere comunale l'esercizio delle proprie funzioni sta proprio nell'andare a vedere se questi documenti ci sono. Siccome il nostro presidente diciamo è anche sindaco fortunatamente del nostro comune facevo in qualche modo riferimento a lui al che si facesse promotore di una diciamo più rapida risoluzione del problema perché credo che molti cittadini arianesi vogliono sapere le scuole se sono sicure o meno. Bene allora ci siamo chiariti anche su questo. Senta voci di corridoio mi parlano di un giovane oppure di una donna alla guida del partito democratico di aria. E lei? Ma le mie informazioni sono molto concrete cioè vengono dall'ambiente ma io non credo. Le farebbe piacere? Io non credo nel diciamo chi entra in nel sinodo in qualche modo già papa ne esce poi cardinale diciamo quindi credo che nel conclave naturalmente chi entra papa ne esce cardinale. Io non credo che ci siano non si possa parlare già di persone che abbiano in qualche modo l'investitura o lo stigma di colui che è stato il prescelto. Credo che all'interno di una dinamica il più possibile unitaria abbiamo deciso con il gruppo consigliare e con altre persone allargato diciamo il gruppo consigliare allargato esteso poi naturalmente a tutta la componente del partito di giungere diciamo ad una mediazione che possa in qualche modo garantire diverse anime all'interno del partito. Non ci sono pregiudizi o scelte già fatte. Il partito decide in piena autonomia chi debbano essere i propri rappresentanti. Noi diamo il nostro contributo all'interno del consiglio. Potremmo darlo sicuramente anche all'interno del partito ma non ce le assicuro assolutamente nessun identikit o nome precompilato. Assolutamente no. Io mi complimento con l'attività di ricerca che lei sta portando avanti in Università di Napoli. Che cosa sta esplicando nel particolar modo? Io mi occupo di pedagogia, sono un pedagogista, dottore di ricerca in pedagogia. Mi occupo in particolar modo di pedagogia della musica. Sono ricerche che attengono diciamo le scienze bi-educative, la cui maestra è la professoressa Frauenfelder, Elisa Frauenfelder, una delle madri della pedagogia italiana, uno dei nomi più illustri, diciamo con lei che ha dato il via alla scuola pedagogica napoletana. Sono un suo strettissimo collaboratore, collaboro con la professoressa Santogliano. Elaboriamo una serie di studi su come le persone attivano alcuni neuroni quando si tratta di apprendimento. Stiamo facendo un sacco di ricerche in tal senso, un sacco anche di pubblicazioni e un percorso molto lungo fatto di ostacoli. L'Università italiana è naturalmente incrostata ancora, ma si sta lavorando molto per scrossarla. Però noi in questo percorso stiamo cercando di fare del nostro meglio, cercando di approdare al più presto delle posizioni che ci consentano anche di stare più tranquilli rispetto al nostro futuro. Dottore, io le faccio in bocca al lupo per le sue attività professionali, ma anche quelle politiche. Noto che è abbastanza informato e si dà da fare ovviamente anche sul territorio. La ringrazio per essere intervenuto alla trasmissione di Canale 58. Grazie e buonasera. Professore La Carità, io la ringrazio io per la sua disponibilità e mi fa piacere di questa intervista. Grazie e buonasera. Ringraziamo il regista Raffaele Perillo e Francesco Lignete. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.